Lick! Ben ritratemi cari vintori dell'Uisona Barcalci, illuminato dal sole perché il sole bacia, i bimbi belli per la serie, il mercato non dorme mai, per cui qui in casa, dottor Luisona, c'è sempre questo solo a ricordare, questa chiosa massima. Ok, va bene, parliamo per l'appunto dello svambere, parliamo di Matteo Angeli perché ha parlato, là nel ritiro di Pinzolo parliamo della situazione Strand Larsen e degli eventuali sostituti e poi a messi connessi perché noi qua abbiamo sempre da raccontare qualcosa di molto interessante, va bene? Ok? Bene, quindi mio caro avventore, prima cosa, tasto rosso, clic, iscriviti al canale qualora tu non l'abbia ancora fatto, condividi questo canale, questo video con i tuoi amici di Fedorosoblu, ma non solo, ad esempio stamattina è uscita una chiacchierata veramente, veramente alcolica con il nostro amico Simone Arsim di cui abbiamo parlato dell'asse Bologna-Juventus, ok? Ma andatevi a ripescare tale video e lascia ora il tuo mi piace al video dell'usione Barcalcio. Allora, iniziamo da Mattias Vanberg che la notte ufficiale del Bologna ha ufficialmente, già si sapeva, comunque comunicato l'avvenuto trasferimento in direzione Germania a vestire la maglia del Wolfsburg, va bene, cifra vicinissima, si dice ai 10 milioni di euro che noi arrotondiamo a 10 milioni di euro, la base fissa che il Bologna ha ottenuto da questo trasferimento, più 2 milioni di bonus al presentarsi di determinate condizioni, più la futura percentuale su una rivendita. Questi i termini con cui si è ceduto lo strand Larsen e che personalmente considerato il giocatore prossimo alla scadenza, perché giugno 2023 scadeva il contratto e già dal 30 dicembre del 2022, quindi fra pochi mesi, poteva firmare e andare via a zero, io personalmente faccio un applauso a Sartori e compagnia belle cantante per questa operazione, che poi, che poi, dispiace che Svamberg sia andato via perché rappresentava un buon giocatore, da una buona mentalità, qui avrei anche qualcosa da ridire, perché se posso essere concordo che fosse un buon giocatore quando ci metteva il 100% in campo, e sono convinto che lo fosse, non sono sicuro che la mentalità seguisse le sue potenzialità. E questo è un bel handicap per un calciatore, e a cui, appunto, mando il mio augurio di migliorarsi sotto questo aspetto a Svamberg. Va bene? Perché ne ha da migliorarsi. Bene, detto questo, Svamberg è uscito, noi guardiamo al presente che a centrocampo significa Dominguez, Scouten, e vi assicuro che l'è un gran bel centrocampo, e poi c'è Levischer, che è ancora un po' da scoprire, e il nuovo acquisto, Lewis Ferguson, di cui abbiamo già parlato. Bene, se a centrocampo, momentaneamente, sembriamo essere a posto, va bene, bisogna virare nelle caselle del campo dove bisogna ancora intervenire, e dobbiamo intervenire da dare a Mark Arnautovic una spalla che sappia fare gol. Ci vuole una spalla ad Arnautovic che sappia fare gol, perché Arnautovic non potrà, anche quest'anno, tirare la carretta da solo in termini di realizzazioni. Sappiamo che Orsolini, sappiamo che Musabarro, sappiamo che Sansone, non ce la possono fare negli ultimi due anni, due anni e mezzo, non ce l'hanno fatta, va bene. Quindi, per cercare di cambiare la rotta che, negli ultimi due anni specialmente, è in discesa per questi calciatori, bisogna valutare un cambiamento. Io sono sicuro che Giovanni Fiducia Sertori si stia adoperando in tale verso, perché Orsolini, rimango convinto, che a fine mercato, cioè al primo settembre 2022, che che ne dica Orsolini stesso, che è uscito un'intervista di recente, secondo me andrà altrove, perché abbiamo bisogno di ulteriori danari per concludere le ultime operazioni. E mi dà il sentimento che Sertori abbia tutta l'intenzione di completare quello che sta iniziando a fare, ok? Visto e considerato che si sta muovendo celermente e con buoni tempi, come mi auspicavo che fosse. Poi staremo a vedere se chi ha preso si rivelerà essere idoneo, ma questo lo valuterà il campo. Noi faremo le nostre stime a mercato chiuso, sicuramente, poi però stare al campo ad avere l'ultima parola, che è l'unica che conta, tra l'altro. Detto questo, quindi i soldi possibili che potrebbero entrare, che devono entrare anzi, dalla cessione eventuale dell'Orso, ci serviranno per completare le altre zone di campo, non solo per l'appunto il compagno di Arnautovic, che rimane, e qui entriamo a parlare nuovamente di Jorgen Strand Larsen, Jorgen Strand Larsen rimane l'opzione A di Giovanni Fiducia Cobra Sartori. E abbiamo visto che quando Cobra Sartori vuole qualcuno, poi lo piglia. Vi ricordo un video che feci dove spiegai che cosa accadde tra Lovato e Strand Larsen, perché ha alzato la cornetta di Sartori per dire a Lovato, purtroppo ragazzo, non ti posso dare la certificazione di riuscire a portarti in tempi brevi. Quindi Lovato ha preso una decisione, anche incalzato dall'Atalanta per la questione Ederson, e ha dovuto accettare Salerno, ma voleva venire a Bologna. E Cobra, Fiducia Sartori, l'aveva opzionato, ma ha dovuto fare una scelta, perché nel breve periodo avrebbe avuto i danari solamente per una delle due operazioni e ha scelto Strand Larsen. Questo perché? Perché Strand Larsen è un obiettivo massimale per Sartori, vuole quel giocatore lì perché lo ritiene, diciamo, la spalla ideale per Arnautovic. E se Strand Larsen viene, non viene a fare la panchina ad Arnautovic, viene per giocare con Arnautovic. Lo ripeterò fino a sfinimento. Bene, quindi Strand Larsen, però, qual è il problema? Che se Artori, e sì, un Cobra, vuole arpionare e prendere i giocatori che ritiene opportuni per fare un upgrade, va bene, però lo vuole fare alle sue condizioni e senza farsi prendere alla gola. Per cui l'offerta che si è fatta di 6 milioni, parte fissa, più 2 di bonus, totale 8, per il momento non convince il Groninger ad accettare, perché il Groninger vuole 9 milioni e mezzo in totale. Quindi c'è un divario se la matematica non è un'opinione di un milione e mezzo che balla e che Sartori non ha, per il momento, perlomeno nessuna intenzione, appunto, di limare a favore del Groninger. Anche perché, carta a nostro favore, Sartori ha già ottenuto l'ok dal procuratore e dal giocatore stesso. Strand Larsen vuole venire a giocare in Italia, vuole il Bologna Football Club. Quindi più da sé, stiamo a vedere se, col dispiegarsi ulteriori di luglio, il Groningen accetterà la richiesta, la valutazione che facciamo noi del giocatore, vista e considerato la volontà dello stesso. Se Strand Larsen non si dovesse fare perché arrivesse solo che ne offre 20 di milioni, se dovesse venire il Milan che ne offre 30, per cui Strand Larsen debba sfumare, ci sono i piani B, C e X. B, C, quali sono quelli che scrivono i giornali? Terra e Mofi, 23 anni, che gioca in Francia, va bene, nigeriano, che personalmente lo sono andato a vedere, sono sincero, non mi piace e io scarterei. Il piano C si chiama Calimuendo, che è l'ultima stagione che ho giocato nell'Ense, ma è di proprietà del Paris Saint-Germain. Sembra, anche se è una cosa che sarà a indevinire probabilmente negli ultimi giorni di mercato, che il giocatore sia anche interessata l'Inter su Calimuendo. e sembra che Sartori voglia nasare di fare un'operazione eventualmente in stile Cambiasso, cioè che l'Inter prelevi il giocatore e che poi lo giri al Bologna. Se così sarà, secondo me, comunque non si esaurirebbe con l'arrivo solamente eventuale del Calimuendo, ma in quel caso lì arriverebbero secondo me due giocatori per l'attacco, ovviamente sempre parlando con l'uscita dell'Orsolini. Ci siamo? Tutto chiaro? Bene. Opzioni numerastre dell'Arsen. Ripeto. Ci sono le opzioni B e C che sono quelle appena detto. Poi c'è che tra l'altro me l'ha spizzato un mio avventore che adesso mi perdonerà, ma che invito qua sotto a palesarsi. visto che si cerchi in Francia di un attaccante molto interessante di 19 anni che si chiama Elie Wailly che sono andato a vedere nell'ultima stagione in Ligue 1 ha giocato 33 partite facendo 10 gol e 2 assist di 19 anni che anche per stile di gioco ricorda un acerbo Leao. Sembra che ne possa seguire le ore. Ma allora io lo cito Elie Wailly chissà mai che il Bologna non ci segue e vista che vuole cercarlo in Francia non possa eventualmente essere lui l'opzione X. Va bene? Buttata lì. Bene, questa è la situazione in attacco. Ovviamente il trequartista esula da questo discorso il trequartista che si vuole e che arriverà a Bologna si chiama Josip Ilicic. Josip Ilicic arriverà a Bologna? Sì, arriverà. Ci vorrà del tempo per definire il contratto come dovrà essere redatto? Sì, ci vorrà del tempo. L'Atalanta ha dato il suo consenso alla cessione? Sì, bene. È tutto fatto. Bisogna trovare i termini dell'accordo. Quindi Ilicic trequartista tutto lascia a presupporre che sia Strand Larsen e che Sertori sappia che troverà l'accordo con il giocatore. Chissà che poi non arrivi anche Calimuendo in stile cambiasso perché ripeto Calimuendo non esclude l'approdo di Strand Larsen secondo me. Poi ci vuole il difensore centrale. Oggi da Pinzolo ha parlato Matteo Angeli molto contento di aver trovato il Bologna il Bologna ha detto l'ho cercato anche a gennaio e vecchio appunto a passaggio anche in rosso-nero con il Milan quando militava nell'Andre 16 dice che si ispira a Sergio Ramos speriamo anche possa essere un decimo di quello che è stato Sergio Ramos gli hanno chiesto se fa la parte del Bologna di quest'anno e lui ha detto staremo a vedere mi hanno detto alla firma del contratto che mi valuteranno in queste due settimane e poi si saprà da farsi se rimarrò o se mi daranno di imprestito prestito che sembra essere in uscita Luis Binx Luis Binx è in procinto di accettare il prestito secco al Como quindi voi capite e se Binx probabilmente potrebbe anche uscire Matteo Angeli ma lo valuteranno con tutta probabilità secondo me comunque rimarrà se non altro nei primi mesi poi magari a gennaio se ne riparlerà una mia impressione ma sicuramente serve un altro centrale quello che deve giocare nel centro-destra ci serve un centrale di centro-destra ci serve un centrale di centro-destra che magari all'occorrenza possa agire anche da perno centrale Matteo Angeli ad esempio gli hanno chiesto ma tu nella difesa 3 dove giochi e lui ha fatto capire che gioca da braccetto ossia può giocare sia a destra che a sinistra essendo di piede destro mi immagino che posso giocare sul centro-destra e può fare anche il perno centrale quindi è per questo che secondo me ci penseranno due volte prima di cederlo avendo già opzionato Binx al Como ok quindi per me comunque arriverà un altro centrale che poi possa essere Formoso e Mendy un altro giovane staremo a vedere che possa essere che ne so visto che ne abbiamo parlato ieri con Simonarsim Rugani io dico anche no io spero qualcosa di altro mi auguro un nuovo mister X o Malik Tiav dello Shack 04 per cui lo Shack 04 se vuole fare mercato o letto ha bisogno di cedere e ha bisogno di soldi allora visto e considerato che non ci verrebbe a costare un polmone Malik Tiav perché da che me ne ho memoria servono 8 milioni è una pista interessantissima da percorrere abbiamo fatto il punto della situazione per la difesa strada che cosa mi rimane altrimenti i miei cari inventori giustamente ok me lo richiederebbero terzino destro terzino destro quello è un argomento che si vedrà a fine mercato si coglieranno eventuali occasioni ma io dico Sartori ha in mente anche questo tenendo però presente che cambiasso all'occorrenza può giocare anche sulla destra e che qui io a differenza attaccante da fiancare all'Arnautovic trequartista difensore centrale di centro-destra da posizionare appunto sul centro-destra quelli arriveranno sicuramente per quanto riguarda il terzino destro con questo che vi ho appena detto ad esempio sul cambiasso lo stesso Matteo Angeli può essere dispiegato all'occorrenza lì io ho qualche dubbio e non vorrei che alla fine possa anche non arrivare ma fiducia Sartori fiducia Sartori perché pare meritarsela bene pare anzi se la merita detto questo penso che abbiamo fatto una disamina veramente totale di quello che gravita intorno ai nostri colori rosso-blu miei cari eventori per cui attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui allo giorno del calcio in un nuovo video e noi ci sentiamo alle prossime chiacca la bar che